Musica Cari amici di Antenna Sud, ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo di Tempo al Tempo. Questa è la situazione generale per venerdì 16 dicembre. Le correnti soffiano a tutte le quote da sud-ovest, richiamate da un vortice in formazione sull'Alto Adriatico, legato ad una saccatura in approfondimento su Mediterraneo centrale. Inizialmente bel tempo prevalente, ma dalla sera si avranno annuvolamenti più consistenti sui rilievi di Molise e Lucania, specie occidentale, con precipitazioni in intensificazione, strati in ispessimento altrove. Ed ora vediamo nel dettaglio cosa accade in Puglia. Spazio quindi alle previsioni per Basilicata e Molise. In Basilicata al mattino sulle coste, bel tempo con cieli sereni, in montagna solleggiato con poche nubi, al pomeriggio schierite alternate a poche nubi sfilacciate sul litorale e a nubi sparse in montagna. In Molise al mattino, bel tempo con cieli sereni o velati, nel pomeriggio poche nubi sfilacciate con schierite prevalenti. Infine temperature, venti e mari. Temperature senza variazioni di rilievo, venti tesi da sud-ovest, molto mossi entrosera, i bacini esposti. Per ora con le nostre previsioni è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e vi lasciamo in compagnia dei programmi di Antenna Sud. Arrivederci. Grazie a tutti.